Mi è piaciuto tanto Belotti, che l'anno scorso purtroppo ha avuto un'annata non positiva, quindi si è riscattato. E vediamo se c'è il sogno Lukaku, ormai lo danno ovunque, tra un po' lo danno pure al Trastevere. Aspetta un attimo, e qui coinvolgo tutti in merito a questo argomento e coinvolgo anche te, perché era previsto in scaletta, però ne avremmo dovuto parlare più avanti. Quindi approfitto anche della tua presenza, perché poi su Lukaku non ci si sta capendo molto, perché poi per un'estate intera tutti quanti lo davano in direzione Juventus con Blauic in uscita Chelsea o eventualmente Bayern Monaco, ma poi lì è arrivato Henry Kane. Adesso però il cerchio si restringe, perché allora all'Inter si è capito che non può tornare per tutto quello che è successo. La Juve sembra defilarsi clamorosamente, ma sono contento anche per lui, anche per quello che poi sarebbe stato vederlo in bianco-nero. In Arabia Saudita non ci vuole andare lui, e adesso prendono corpo le ipotesi della Roma, come hai detto te Bobbo, ma anche in UK si fa il nome del West Ham, perché gli Ammers, un'altra, un'altra. Incassati da Declan Rice e anche da Scamacca, hanno anche tanto denaro da investire nel mercato in entrata, e Lukaku sarebbe l'eventuale numero 9 per potenziare l'attacco. Tramontata l'ipotesi Tottenham, perché stanno puntando su Richardson. Allora, andiamo a giro, vado da te Bobbo. Guarda, parto io perché poi mi abbandono. Allora, da tifoso, ma magari venisse Lukaku. Secondo me, se si imbrocca bene a Roma, con Di Bala, secondo me si esalterebbe con Di Bala dietro. Però devono succedere tante cose, si devono incastrare tanti meccanismi, specialmente a livello burocratico di società, eccetera. Però secondo me, alla Roma, uno come Lukaku, in forma, con la voglia, con la spinta della nostra tifoseria e l'ambiente romanista, se poco poco fa bene, mamma mia, che te lo dico a fa'. Che te lo dico a fare, l'occhiampo. Capito? Ma allora no, io devo essere un po' provocatorio in questo, nel senso che eventualmente per la Roma, per come si era messo il mercato, per la questione di centravanti, Lukaku sarebbe oro colato, ma tu lo vedi bene nel contesto Roma o è in senso generale un attaccante che ti piace? Perché poi, a me personalmente, io, a me Lukaku, per la stagione, con Conta all'Inter, non è stato mai un attaccante che mi ha entusiasmato, su questo sono sincero. Anche se riconosco che eventualmente per la Roma sarebbe un supercolpo. No, 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 ma neanche a me mi fa impazzire. Io parlo proprio nel contesto Roma, Roma città, Roma tifoseria, Roma ambiente. Cioè, lui ha bisogno quest'anno, secondo me, di essere caricato di nuovo a mille. E cosa è meglio della tifosità della Roma, di Roma società, secondo me, per un giocatore così? Allora, vado da Salvatore, perché mi stavi dicendo che ci sono delle notizie in merito. Io ho sentito quella relativa all'USM, anche se credo che possa essere senza offesa per i tifosi degli Ammers, tanto non ci stanno seguendo, una sorta di declassamento per la sua carriera. Quante possibilità ci sono? E poi, se non sbaglio, mi stavi dicendo che dall'Inghilterra c'è addirittura un'altra possibilità. Spieghiano un attimo. Sì, dall'Inghilterra hanno rilanciato un paio di giorni fa Sky Sports UK, che ci sono stati dei contatti con il Tottenham, proprio per sostituire Harry Kane. Quindi il Tottenham ha una quantità di denaro fresca dopo aver venduto Harry Kane al Bayern Monaco. E pare che all'allenatore ex Celtic australiano, l'attuale, anche post-Tecoglu, mi fa ridere Andrea perché gli diamo un nomigliolo diverso, noi due, e pare che lo voglia. Quindi io sinceramente, se post-Tecoglu, che comunque è molto, molto, molto già inserito benissimo nell'organigramma Tottenham, Daniel Levy pende dalle sue labbra, se lui vuole in squadra Lukaku, secondo me il Tottenham lo prende. Perché comunque ha la disponibilità per andare a prendere. Ma sai perché io ho delle perplessità in tal senso? Perché l'anno scorso ovviamente c'era Harry Kane, e quindi in tal senso veniva penalizzato Richarlison, che veniva messo anche fuori ruolo. Poi sappiamo che Richarlison con il Brasile fa il centramanti. Adesso nelle prime due giornate di campionato con gli Spurs ha giocato attaccante. Ma non ha fatto gol, Franci. Franci non ha fatto gol. Eh ma diamogli tempo, diamogli tempo. No, 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 lui vuole un attaccante, un attaccante forte, un punterone che fa, che fa 20-25 gol. Secondo me Lukaku messo nel contesto Tottenham, che attualmente in queste due partite sta facendo benissimo, perché per fare gol Dyer, comunque a Madison dietro, comunque c'è il Richarlison, c'è una bella squadra il Tottenham quest'anno. E un finalizzatore come Lukaku sarebbe perfetto per loro. Quindi con Son, soprattutto a rimorchio, quello sarebbe perfetto. Son, Madison, Lukaku, con Richarlison inizia a essere un grande tridente. Quindi secondo me se lui li vanno a fare l'offerta, preferisci il Tottenham o il West Ham, lui va al Tottenham, cioè esclude il West Ham assolutamente. Soprattutto per una questione di soldi. Il West Ham fa l'Europa League, il Tottenham non fa nulla, però non lo vedo sinceramente da West Ham. Anche perché sarebbe il più pagato, mentre al Tottenham comunque c'è già Son, che è uno dei più pagati. Quindi sotto quel punto di vista il Tottenham e post-Ecoglu possono prendere Lukaku. Anche perché al volo, Ocettino non li vuole salire più. Abbiamo sentito anche la tua opinione, Salvo. Allora, non ha ancora parlato C.E.D. Gargi. Io vi devo salutare. Salutiamo Bobo. Ciao Bobo, piacere. Ci sentiamo presto e appena vengo a Roma ti offro una cena. Grazie mille, grazie mille. Buonasera, ci sono strappato. Buonasera, ciao Bobo. Piacere. In tutto ciò ringraziamo Bobo Scandroglio per essere stato con noi. Abbiamo parlato di calcio giocato per quanto riguarda la Roma, ma anche della suggestione a Romelu Lukaku in ambito giallorosso. Andrea me lo tengo per ultimo perché credo che come al solito sarà scatenato. C.E.D. Gargi non ha ancora parlato, quindi primo argomento dove ti cedo la palla, caro C.E.D., Romelu Lukaku, perché ne abbiamo parlato tanto quest'estate di tutte quante le suggestioni di mercato, soprattutto il suo potenziale accostamento alla Juve. potrebbe tornare in Serie A, ma con un'altra maglia. Si è parlato di Roma, c'è anche il Tottenham e il West M alla finestra. C'è anche il Milan, no? C'è anche il Milan, giustamente, sì. Non va a fare la panchina al Giroud. A parte che ha segnato stasera a Giroud. Vado a dire. Sì, quello sì, però al Milan manca anche una punta. La riserva del Giroud però. Ma Giroud ha anche la sua età. Vabbè, ma Giroud ha anche la sua età, no? Sì, ma Giroud non fa la panchina a Lukaku. Giroud fa la panchina a Lukaku. Su questo sono anch'io d'accordo con Andrea. E Lukaku non fa la seconda, cioè Lukaku non si mette in situazione. Lukaku va a far titolare, no. Lukaku va a far titolare. Non si mette in la situazione che gli è successa l'anno scorso all'Inter. Esatto, Andrea. Perché quando gli infortuni, quando lui era in forma, giocava a Dzeko. E io credo che lui, per il carattere che abbia, benché che non lo conosca personalmente, vuole uno... Vuole il forno. Vabbè, io alla Roma... Vuole fare il titolare, Gied. Vuole fare il titolare, punto. Non va a fare la seconda. Comunque il titolare lo farebbe anche al Milan, sinceramente. No, con Giroud no. Diventerebbe Dzeko come l'anno scorso. Sì, ma si crea quella situazione, però lui parte nelle gerarchie e partirebbe titolare. Questo è il discorso. Al Milan? Partiva Giroud l'anno scorso e quindi Milan ha sempre dichiarato che cerca uno che giochi quando non ce la fa Giroud, perché Giroud ha 37 anni. Il Milan non ha mai dichiarato che sta cercando uno che giochi al posto di Giroud o che giochi la metà delle partite con Giroud. Cioè, Giroud non si tocca, serve uno che gli faccia tirare il fiato. Hanno sempre detto questo, hanno sempre cercato uno... Eh sì, ma infatti questo è il ruolo di Okafor. Esatto, hanno preso Okafor apposta, però secondo me Okafor non basta per loro. E questo è il ruolo di Okafor con Giroud. Però quella prima punta di peso che serve al Milan lo rivedono in Lukaku. Poi al di là delle situazioni economiche che servono per acquistarlo e tutto quanto. Però se dovessero andare su Lukaku è lui il titolare prescelto, ma titolare fisso, non come andrebbe a fare... Secondo me Lukaku che sta bene mentalmente gioco per ritoriare anche in Premier. Sì, 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 assolutamente. È un giocatore che campa di prepotenza. Sì, però è anche vero se poi io l'ho detto tantissime volte non mi voglio... Ha sempre giocato in Premier, ha fatto solo un anno buono, anzi due anni buoni. Ma no, ma perché poi se andiamo ad analizzare le sue esperienze con le grandi squadre, allora al Manchester non ha fatto male, ma neanche bene. perché comunque l'avevano preso auspicandosi qualcosa in più. Nel senso, i gol li ha fatti, però non è che ha spostato gli equilibri. No, non li ha spostati, però... No, non ha spostato gli equilibri a livello di trofei. Al Chelsea praticamente la prima volta è giovanissimo e non si trova con Villas-Boas. Poi Di Matteo lo rintegra, ma era comunque molto giovane, arrivava dall'Underlet. Nella seconda esperienza, quando ritorna dopo aver fatto bene all'Everton, al WBA, se non sbaglio, e Mourinho, dopo il calcio è sbagliato, in Supercoppa Europa con il Bayern Monaco, praticamente lo manda via. Poi, con Tuchel, sappiamo tutto quanto quello che è successo e quindi di conseguenza... Pure al Manchester United... No, al Manchester lo rimpiangono, eh? Beh, oddio. Al Manchester non l'ha fatto male. Al Manchester l'ha fatto male. Ma nemmeno benissimo. Non hanno vinto titoli. Non hanno vinto titoli. Ma l'ultima stagione ha fatto 12 gol, e Luca è uno che te ne deve fare 25 di gol. Ma non era titolare. Non giocava. Non era titolare. Al Manchester c'era gente, c'era gente. Poi non hanno vinto, ma la squadra c'era, i giovederi c'erano, eh? Sì. Beh, poi è andato via lui e ha vinto l'Europa League con Mourinho, se vi ricordate. Lui non c'era. Comunque, mi piace riflettere su un concetto fondamentale, che Luca è un calciatore fuori rosa senza chance di reintegro. Non è Mbappé. Ad oggi, Luca è un calciatore fuori rosa senza speranza di reintegro. E stanno giocando sia lui che il Chelsea col fuoco. Perché, ci siamo giocati in Piedre, perché se loro aspettano il primo settembre, è vero che rimane aperta la rabbia saudita, ma lui a quel punto può non andarci. Perché in fondo gli è pagato un ingaggio a Londra. ed è un rischio grosso. Quindi, secondo me, il Chelsea farà, stile Paris Saint Germain, il possibile per darlo via al Trento, il 31 agosto. Però rischiano di perdere i soldi. Esatto. Sì, per i soldi. Ma già lo sanno che perdono i soldi. La strategia, la strategia delle italiane, se mai dovessero puntare su Lukaku, è proprio quella di aspettare fino alla fine, contando il fatto che il Chelsea l'ha messo fuori rosa senza... Qual è la squadra più brava in questo? Questa è l'unica soluzione. A meno che loro, il Chelsea, spera in questo momento il West Ham o il Tottenham che se lo prenda. Ci stanno chiedendo, avete parlato di Caisi dell'Avia che hanno preferito il Chelsea a Liverpool. No, non ne abbiamo parlato, però io sinceramente, come ho dichiarato sui miei canali social, mi prendo le responsabilità di quello che dico, il Chelsea ha fatto un mercato totalmente sbagliato, nel senso che ha... Poi, la cosa si è rivista anche in campo, ieri contro il West Ham dove i Blues hanno perso per 3-1. Io sinceramente, guarda, con tutto il rispetto che ha fatto un bellino al Diareal, Jackson è uno che non mi sarebbe preso. Cioè, paradossalmente, guardate che vi dico, avrei rintegrato Lukaku. Ma Jackson è il meno peggio, Franci. Jackson è stato il meno peggio. Sì, è una squadra fatta senza ne capo e ne coda. Cioè, le squadre vanno fatte con il giusto mix di esperienze e di giovani. Non puoi fare una squadra interamente di giovani. Ma poi pagati quello che l'hanno pagati. Cioè, proprio una squadra sensuale. Ma Mudrik pure ha pagato un'enormità nello scorso mercato di riparazione. Comunque, non so se avrete ad aggiungere qualcosa di Lukaku, altrimenti vediamo l'argomento. Al volo, è uscita una grafica. Il Chelsea, da quando è arrivato, Ted Burnley, ha comprato 34 giocatori, ha speso 956 milioni di sterline. Quindi sono un miliardo. Più di un miliardo di euro. Per 34 giocatori. Quasi un miliardo di sterline. Quasi un miliardo di sterline. E poi, ma poi, a me ci rompono le scatole, alle italiane, i rompono le scatole col perplay finanziario. Hai capito? Allora, 34 giocatori. 956 milioni di sterline. Ho capito, però è un miliardo. Un miliardo per 34 giocatori. è un miliardo per 34 giocatori. Però nessuno sa che cosa vorrei... Cioè, forse secondo... Io vado a logica, non vado adesso a cosa. Secondo me, hanno voluto cambiare totalmente squadra, perché lui ha un'idea, vuole portare la squadra idea... Ma non compri 34... Cioè, non lo so. Allora, lui... Questo è quello che mi dice vero. Però... No, no, questa è... Secondo la mia logica, non è che per forza deve essere così. Se no, non si spiegherebbe questo. Con i primi giocatori, non lo so, non lo so, ci sta quello che dici, ci sta quello che dici. Però, se tu ti dai, se tu vuoi fare un progetto, no? Quindi, gli dai del tempo. Tre o quattro anni per vincere. Tre anni per vincere, secondo me, quel progetto lì lo fai spendendo un terzo. Esatto. Non serve spendere quei soldi. Secondo me, poi, per carità, quei soldi degli altri, siamo tutti bravi a parlare di come qualcun altro dovrebbe spendere i suoi soldi, specie dopo una partita persa tre a uno. La mia domanda chi ha segnato? Ancora Antonio, raga, Antonio, segna sempre. Ma è con Antonio? L'abbiamo parlato, l'abbiamo parlato. Fortissimo, ma è con Antonio. Sono mai sottovalutatissimo come giocatore. Giocherà sempre. È uno dei quei calciatori che giocherà sempre lì e segnerà sempre lì. Lukaku, tornando a bomba, è un calciatore svincolato. Cioè, non calciatore svincolato, è un calciatore fuori rosa. E come tutti i calciatori fuori rosa, senza possibilità di reintegro, lo daranno via tra il 30 e il 31 agosto, che è il giorno in cui si fanno gli affari per le punte. Sono gli italiani in quel caso, se no, se un inglese arriva e gli mette i soldi cash sul tavolo... Ma chi è che può prendere? Cioè, a parte il Tottenham... No, no, in Inghilterra solo chi cerca una punta, a parte l'USM come sta dicendo l'Oco fa, o il Tottenham. Perché se tu li hai, glieli dai prima. Perché non corri il rischio che qualcuno te lo prenda. Cioè, una squadra che può... Però dopo si agguerrisce la situazione. E non è... No, ma parlavo di 40 di Premier, che una squadra di Premier sono poca roba. Cioè, una squadra di Premier... No, io parlo di giocatore. Allora, se dopo, se tu aspetti fino al 31, c'è la guerra, c'è l'asta per il giocatore. Ma è lui che deve firmare il concerto. Roma, Milan, o chi che sia, Tottenham, ma la pena in mano c'è la calciatore. Adesso deve andare. Adesso deve andare. No, ma la pena in mano c'è la calciatore. Il calciatore ha tutto l'interesse a prendere tempo e a firmare alle 23.59 dell'ultimo giorno di calcio. Esatto. Io ti sto dicendo, se fossi nel West M, Andrea, adesso sul Lukaku non aspetterei il 31. No, ma infatti il West M ci sta andando adesso, appena affiutato, che potenzialmente si può fare l'affare. Ma non ci va lui, Franci. Non ci va lui al West M. Eh sì, ma infatti stavamo parlando dell'ottica che loro ci stavano provando. Se fosse pure andare al West M ci sarebbe già andato perché West M facciamo entrare, facciamo entrare anche Claudio Donnarumma di partecipare. Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera. Ciao, ciao. Stavamo parlando della questione relativa a Lukaku che è rimasta al Chelsea quando siamo giù e praticamente mancano dieci giorni alla chiusura del calciomercato. Ti chiamo anche Flash a te su questa questione perché nelle ultime ore sono rimbalzate fuori altre possibili destinazioni oltre poi a quella che era in passato relativa alla Juventus. Si parla di Roma, si parla di West M, si parla di Tottenham e c'è anche una suggestione Milan. È peggio di un cubo di Rubik decifrare in questo momento il futuro di Lukaku? Quasi quasi serve al Chelsea dopo il Chelsea di ieri. È certo. Eh, perché vedendo il Chelsea di ieri poi non è che Lukaku sia inferiore a quello che ho visto io. Oddio, non ha giocato male perché poi il risultato... Però poi stranamente quando poi è rimasto in dieci sembra che abbia giocato meglio il West M, stranamente. Però sì, secondo me a chi è che farebbe molto molto comodo Lukaku è alla Roma. più che le altre squadre che tu hai detto. Secondo me alla Roma farebbe molto comodo. Togliendo il fatto che ieri Belotti ha fatto la doppietta e quindi... Ma era anche normale, non poteva restare... Cioè, quello che è successo l'anno scorso a Belotti è qualcosa di incredibile perché comunque è un giocatore che è sempre segnato in Serie A. però per quello che è successo a Abram secondo me la squadra che ha più bisogno di un attaccante forte come Lukaku è proprio la Roma. Quindi poi... Boh... Non ho idea. Come hai detto tu veramente è un enigma. La storia di Lukaku è un enigma. Lukaku sceglierà lui alle 23.59 del 31. Però guarda, paradossalmente a noi ci ha dato in qualche modo lavoro e qualcosa di cui parlare perché poi sono queste le storie legate al calciomercato che affascinano. Eventualmente ci scriverò una sorta di secondo capitolo legato al mio libro Calciomercato Sliding Doors perché qui ci sono state tante porte scorrevoli relative al suo futuro e alla sua possibile destinazione. Però tra dieci giorni sapremo quale sarà la sua prossima squadra. Certamente ricollegandomi a quelle che sono state le parole di Maurizio Pocettino quello che è certo è che non rimarrà al Chelsea anche se come diceva giustamente Claudio in questo preciso momento con la penuria di punte che c'è in casa Blues probabilmente anche a loro farebbe comodo ma lì eventualmente ci sono rapporti con la dirigenza ormai deteriorati insanabili e che lo portano in altra direzione. Con le dure con Rock Nations lui non vuole stare anche soprattutto perché i Berlin non vogliono trattare con le dure Rock Nations quindi in questo caso Jay-Z perché sennò li devi dare i soldi anche a loro perché diritti di immagine e tutto. Diciamo il Chelsea è un po' come il Napoli sotto questo punto di vista per i diritti di immagine vuole averli tutti loro fanno formare i contratti megagalattici di cento e passapagine proprio perché vogliono i diritti di immagine anche loro un po' come dell'Aurentis infatti Ted Burley quando fa i contratti il minimo dei contratti che ha fatto su 34 giocatori li ha spalmati per 6-7 anni quindi cosa vuole dire questo secondo voi?